palinuk diari 21 giugno tre quarti di luna oggi ha chiamato un signore da long beach ha lasciato un lungo messaggio in segreteria sussurrando e gridando parlando lentamente e poi veloce imprecando e minacciando di chiamare la polizia di farti arrestare oggi è il giorno più lungo dell'anno anche se ormai tutti i giorni lo sono il tempo previsto per oggi è in quietudine crescente seguita da terrore conclamato l'uomo che ha chiamato da long beach dice che gli è sparito il bagno 22 giugno quando leggerai queste parole sarai più vecchio di quanto ricordavi il nome ufficiale delle tue macchie senili è lentigini iperpigmentate il termine anatomico ufficiale per definire una ruga è ritide le grinze che hai nella parte superiore della faccia le ritidi che ti solcano la fronte e gli occhi sono solchi dinamici detti anche linee facciali iperfunzionali e provocati dal movimento dei muscoli sottostanti le rughe nella parte inferiore della faccia sono ritidi statiche provocate dal sole e dalla gravità ma diamoci un'occhiata allo specchio guardati la faccia con attenzione guardati gli occhi la bocca ciò che credi di conoscere meglio la tua pelle è composta essenzialmente da tre strati quello che puoi toccare è lo strato corneo fatto di cellule piatte morte spinta in superficie delle nuove cellule che crescono al di sotto ciò che provi al tatto quella sensazione oleosa è il film lipidico il rivestimento di olio e sudore che ti protegge da germi e funghi subito sotto c'è il derma poi uno strato di grasso sotto il grasso ci sono i muscoli del volto forse tutto questo lo ricordi ancora dall'accademia delle belle arti corso di anatomia umana 201 ma forse no quando sollevi il labbro superiore quando mostri l'incisivo quello che ti ha rotto il custode del museo ecco è il tuo muscolo elevatore del labbro superiore in azione il muscolo del ghigno mettiamo che tu senta puzza di urina vecchia stantia mettiamo che tuo marito si sia appena suicidato sulla vostra auto familiare mettiamo che tu debba metterti lì a ripulire il tuo piscio dal sedile del conducente con una spugna mettiamo che tu debba continuare a guidare il rottame arrugginito e puzzolente per andare al lavoro con tutti che ti guardano tutti che sanno perché è l'unica macchina che hai ti dice niente quando una persona normale una persona normale innocente che certo meritava qualcosa di molto meglio quando questa persona torna a casa dopo una giornata passata a servire ai tavoli e trova suo marito morto asfissiato in macchina con la vescica che perde e si mette a urlare ecco quello non è altro che il suo muscolo orbicolare della bocca teso allo stremo il solco profondo che va dagli angoli della bocca al naso si chiama plica naso labiale c'è chi la chiama ruga del sorriso a mano a mano che invecchi il cuscinetto di grasso che hai nelle guance il termine anatomico ufficiale è bolla adipose zigomatiche scivola sempre più in basso fino ad assestarsi contro la piega naso labiale trasformando la tua faccia in un ghigno permanente giusto un piccolo corso per rinfrescare la memoria passo dopo passo un ripassino casomai non ti riconoscessi adesso corruga la fronte ecco questo è il muscolo triangolare che tende verso il basso gli angoli del muscolo orbicolare della bocca mettiamo che tu sia un dodicenne che a suo padre voleva un bene dell'anima una piccola preadolescente che del suo papà bisogno più che mai che era convinta che suo padre ci sarebbe sempre stato mettiamo che ogni sera tu vada a letto e pianga stringendo gli occhi così forte che ti si gonfiano la superficie buccia d'arancia del tuo mento quelle piccole protuberanze increspate sono provocate dal muscolo mentoniero il muscolo del broncio quelle linee corrugate che vedi ogni mattina sempre più profonde diramarsi agli angoli della bocca fin quasi a sfiorare il mento ecco quelle si chiamano rughe della marionetta le pieghe tra le sopracciglia sono solchi glabellari il modo in cui le tue palpebre gonfie ricadono in avanti è detto ptosi le tue ritidi preorbitali laterali le cosiddette zampe di gallina peggiorano di giorno in giorno e tu hai soltanto 12 anni che cazzo non fingere di non sapere di che parlo della tua faccia e adesso sorridi se ci riesci ancora ecco questo è il tuo muscolo grande zigomatico ogni contrazione ti dischiude la carne proprio come i nastri che tengono aperte le tende della finestra del tuo soggiorno come le funi che aprono il sipario di un teatro ogni tuo sorriso è un debutto una prima tu che sveli te stesso ora sorridi come sorriderebbe una madre anziana dopo che il suo unico figlio si è suicidato sorridi e accarezza la mano di tua nuora di sua figlia adolescente di loro di non preoccuparsi che davvero alla fine tutto si sistemerà continua a sorridere e raccogliti i lunghi capelli grisi con un fermaglio vai a giocare a bridge con le attempate signore amiche tue incipriati il naso l'enorme orrando mallopo di grasso che ti vedi penzolare sotto il mento la cosiddetta pappagorgia che ogni giorno diventa più grossa e tremolante ecco quello è grasso sub mentoniero l'anello raggrinzito di rughe che ti circonda il collo è il muscolo platisma il lento scivolare dell'intero viso del mento e del collo è dovuto alla gravità che trascina verso il basso il sistema muscolo aponeurotico superficiale ti dice niente se ora come ora ti senti un po confuso cerca di rilassarti non ti preoccupare basta che tu sappia che questa è la tua faccia ciò che credi di conoscere meglio i tre strati della tua pelle le tre donne della tua vita l'epidermide il derma e il grasso tua moglie tua figlia tua madre se stai leggendo queste parole bentornato alla realtà ecco che cosa ha prodotto tutto il magnifico il limitato potenziale della tua gioventù tutte quelle aspettative disattesa ecco cos'è che hai fatto della tua vita ti chiami peter wilmot basta che tu capisca che razza di patetico sacco di merda sei diventato la tua gioventù la 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 gioventù